E' morto purtroppo ieri pomeriggio il giovane Manuel Acabo, 26 anni, di misili scemi. Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente che era avvenuto domenica scorsa sul ponte di Xita, la frazione di Trapani. Nell'impatto violento l'auto sulla quale viaggiava, una 500, si è disintegrata. Manuel è deceduto al civico di Palermo, dove era stato trasferito dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani. A nulla sono serviti in questi giorni i disperati tentativi dei medici del capoluogo siciliano per strapparlo alla morte. Il decesso è avvenuto dopo una lenta agonia.